Ciao, è online il corso come registrare ed effettare la voce, un argomento complesso, spiegato passo passo. Molti cantanti, rapper o semplicemente appassionati potranno capire e provare nella pratica come è possibile rendere una registrazione da home studio di altissimo livello tecnico qualitativo. Un corso completo che potete trovare nel link in descrizione, quindi se vi va date uno sguardo. I processi che solitamente si applicano sulla voce sono diversi. Innanzitutto è scontato dire che la registrazione deve essere di buon livello qualitativo, quindi ancora prima di aggiungere della qualità con dei processori è importante registrare in maniera pulita. E quindi nel corso viene affrontato anche l'argomento come registrare in maniera pulita e quali sono i livelli da considerare e tutti gli altri aspetti tecnici. Dopodiché è importante poi processare il suono, quindi ci sono tutta una serie di operazioni da fare, come per esempio il gate, il diesser, ma non solo, con delle tecniche particolari. Fatto questo si passa poi ad argomenti come l'equalizzazione e la compressione, quindi quali sono gli elementi principali da considerare. E infine poi si parlerà di effettistica in senso stretto, quindi delay, reverb, channel strip, saturatori, distorsori eccetera eccetera. E' ovvio che quando si applicano questi effetti c'è anche una catena da seguire, a parte poi quelle che sono le tecniche, e il discorso riguarda anche la voce principale rispetto magari a delle voci secondarie o delle voci che vanno a fare da coro o da contorno alla voce principale. Insomma nel corso è tutto spiegato in maniera molto dettagliata e quindi trovate il link in descrizione. Ciao, alla prossima!